E' la fatica evolutiva che ti meriti. A quell'ora sarebbe stato a casa con la moglie Lori. Ma ci sarebbe stato davvero? Pareva che ultimamente per Orazio non tornare a casa fosse diventata un'abitudine. Il lavoro gli forniva motivi più che sufficienti. Non so se sono riuscito a spiegare quello che voglio dire. Cercherò di farlo meglio, disse Orazio al collega. Io cerco di comprendere il mio matrimonio, ma il mio sforzo di comprensione mi rimanda dolorosamente indietro, come se dovessi iniziare una nuova esperienza affettiva. Non so spiegarmi meglio. Non ti sai spiegare meglio perché la tua mente cerca di comprendere la situazione che vivi, ma non ci riesce, perché essendo mente non comprende il sentire e la sua non comprensione ti ritorna indietro come malessere, disse il collega. Non ti capisco, disse Orazio. Appunto, non mi capisci perché vivi completamente di mente. E come dovrei vivere? Continuando a vivere come vivi adesso, di mente, di idee, che essendo delle idee non possono essere delle comprensioni. Ecco perché si modificano un po' alla volta. Scusa, ma continuando a vivere così, faccio una gran fatica. Sì, è la fatica evolutiva che ti meriti. Vedi, la risposta più utile per te è che adesso devi cercare di fare quello che senti di fare. Ma perché? Perché solo tu conosci la necessità evolutiva per cui hai bisogno di vagliare il sentire con la mente. Infatti, il farlo con la mente ti servirà a vagliarlo di coscienza.